da noi giovanissimi, noi giovanissimi del domani, del futuro migliore, della legalità, della purezza, noi dobbiamo... ...particolare, ecco, la famiglia, la famiglia della, la famiglia di Angela Carini, che è la nuova famiglia, la famiglia della Polizia di Stato e del Pianeo, Francesco Notini, una foto che sia un impegno, mettiti qua, una foto che sia un impegno, è una foto che sia un impegno, perché la famiglia d'origine e poi la famiglia di Angela Carini, la Polizia di Stato e le chiamiamo, ecco qua. Grazie, grazie a tutti.